Credo sempre di lui e siamo molto felici tutta la squadra, due vittorie qua, un po' perso generale, però non è conta questo, conta che la squadra vince e siamo tutti contenti. Sì, io con Peter sto molto bene, siamo molto amici e lui mi ha aiutato tante volte e io voglio lavorare anche per lui perché lo sapevo che vince oggi. Grazie.